Per AES è molto importante, per la prima volta, questa è la tredicesima edizione, portare la settimana della domotica e della bioarchitettura anche a Mirandola. Gli appuntamenti solitamente in questi tredici anni si sono tutti svolti nella nostra sede di via Caruso a Modena, ma quest'anno in particolare, visto il tema, era impossibile non venire nella bassa, nella bassa colpita del terremoto del 2012, che sta affrontando il tema della ricostruzione. La ricostruzione può essere un campo di studio e di approfondimento per tutti i temi energetici, rigenerazione, nuove modalità di utilizzo dell'energia per andare verso l'adattamento al cambiamento climatico. Il filo rosso che lega la settimana di quest'anno parte da questo, parte dall'idea che non si può rinunciare all'efficientamento energetico nei centri storici, nei bellissimi centri storici, spesso però vincolati, del nostro paese, ma soprattutto si parte anche dalla necessità dell'ente pubblico, spesso proprietario di questi immobili, di non poter rinunciare, per ovvie necessità ambientali di bilancio, al tema della ristrutturazione e della rigenerazione. Come numeri posso dire che AES quest'anno vuole superare ciò che è stato il bilancio consuntivo della settimana dello scorso anno. Siamo oltre 90 esperti, 10 momenti in 5 giornate, vogliamo andare oltre le mille presenze, tra dette i lavori e semplici curiosi cittadini, tantissimi i simboli, le persone, i soggetti, gli stakeholder del territorio che appoggiano la settimana della bioarchitettura e della domotica, sia come partner, sia come sponsor, sia anche come semplici partecipanti. All'interno della nostra settimana pensiamo sia rilevantissimo il provare a ragionare per la prima volta come AES, non più di Modena, ma come AES su un'area vasta. L'integrazione tra AES e la consorella Cisa, venuta nel 2016, permette all'agenzia di provare a immaginare sul prossimo futuro una dimensione più regionale. I soci sono tanti dentro AES, i servizi richiesti dai soci pubblici ad AES sono sempre in ascesa e quindi da partire da questa settimana della bioarchitettura e della domotica dobbiamo impostare una quotidianità che ci permetta di immaginare e provare a essere un po' ambiziosi un futuro su dimensione regionale. È evidente che AES deve provare a connettersi sempre di più anche sulla necessità non solo della qualità dei progetti ma anche la sostenibilità economica dei progetti, soprattutto perché gli enti pubblici ci chiedono spesso come accompagnare la copertura di tutto ciò che può essere una buona suggestione. I fondi europei possono essere una soluzione ma all'interno di questa settimana ci accorgeremo che sempre di più il partenariato pubblico privato è complementare alla possibilità di ottenere fondi europei o fondi pubblici. Innanzitutto ci tengo a dire che AES è un'associazione e la sua forma giuridica permette una flessibilità di procedure e di utilizzo che sempre di più gli enti locali hanno. Mi verrebbe da dire che AES deve provare a essere una nuova forma di in-house un braccio operativo per gli enti soci a partire dai comuni. AES muove un'attività che supera il milione di euro all'anno grazie a 12-13 unità di personale, personale molto qualificato. L'attività spazia dai progetti europei a legare a tutto ciò che è consulenza e servizio per gli enti pubblici ma poi c'è anche sempre più in espansione mondo delle necessità delle associazioni, dei privati, delle industrie perché sempre di più nel bilancio dei soggetti privati l'attività di risparmio energetico è una spesa rigida da abbattere. E quindi le nostre professionalità sono in grado di unire magari nella stessa giornata di lavoro un'azione verso i soci pubblici ma allo stesso tempo dare qualche consulenza o dare qualche consiglio o mettere in avanti attività di formazione, altro spazio molto importante, verso gli addetti ai lavori e gli stakeholder del territorio.